Un saluto a tutti i videoascoltatori d'Italia Medievale, oggi presentiamo un bel saggio pubblicato da pochissimo dalle edizioni Dedalo dal titolo Storia letteraria delle malattie, la narrazione del contagio dal medioevo all'età moderna di Elisa Tinelli che abbiamo il piacere di avere nostra gradita ospite alla quale io come mia abitudine lascio la parola perché ci parli di malattie, argomento un po' però va bene così, prego a lei. Grazie, grazie mille intanto dell'invito che mi ha fatto molto piacere. Allora io qui davanti a me qualche appunto perché non vorrei disperdermi troppo, insomma cercherò di dare un'idea di quello che è stato appunto il percorso che mi ha portata a scrivere questo volume. Partirai intanto dal titolo che è abbastanza per spicco però mi piace insomma tornarci un attimo appunto Storia letteraria delle malattie, la narrazione del contagio dal medioevo all'età moderna. Come si capisce facilmente lo scopo dell'opera, del testo, è stato proprio quello di delineare una storia della letteratura, in particolare della letteratura italiana, potremmo dire subspecie morbi, quindi appunto sotto il profilo del contagio, della malattia e se nell'introduzione lo scenario che ho cercato di tratteggiare è piuttosto ampio perché copre un arco cronologico molto vasto, forse anche troppo, forse eccessivamente ambizioso perché nell'introduzione appunto si parte come vedremo tra poco dalle origini della storia della letteratura occidentale, dall'Iliade, ma anche dai testi sacri, dalla Bibbia e si arriva al novecento inoltrato con Camus, con Saramago, con Marquez, insomma ho cercato di coprire un arco cronologico piuttosto ampio. In realtà poi il taglio più specifico del volume riguarda proprio la storia della letteratura italiana che io ho cercato di ripercorrere appunto sotto il profilo della narrazione del contagio, della narrazione della malattia contagiosa dal medioevo fino sostanzialmente all'ottocento, quindi alle soglie dell'età contemporanea quasi, non ho toccato il novecento perché nel novecento il concetto di malattia cambia radicalmente, diventa qualcosa di radicalmente altro e quindi ho cercato di concentrarmi appunto su un periodo molto compatto che va dal medioevo fino alla fine dell'ottocento. Si potrebbe pensare che tutto cambia attraverso i secoli in realtà non cambia praticamente quasi nulla. Ecco, tra le motivazioni che mi hanno spinto a scrivere questo libro forse questa è stata la più forte. Quello di capire, il tentativo di capire se attraverso i secoli la narrazione della malattia e il racconto della malattia contagiosa abbia subito dei cambiamenti, delle variazioni che io giudicavo inevitabili prima di mettermi a scrivere questo testo, mettermi a studiare questa materia. Giudicavo inevitabili perché ovviamente col mutare della mentalità con le scoperte scientifiche che si susseguono ritenevo che l'idea di malattia l'idea di contagio dovesse necessariamente andare incontro ad un mutamento. In realtà ho scoperto che non è così. Dal medioevo alla fine dell'ottocento non cambia praticamente quasi nulla. La malattia contagiosa viene immancabilmente concepita e presentata in chiave moralistica. In chiave moralistica cioè la malattia ha sempre un retroscena morale, ha sempre immancabilmente con sé il marchio della colpa. Ecco, questa è una costante della narrazione della malattia contagiosa dall'antichità ai giorni nostri si potrebbe dire e lo abbiamo vissuto sulla nostra pelle, no? Perché quando si sono avute le prime abisaglie poi della pandemia, di quella che poi è diventata la pandemia da Covid-19, lo abbiamo visto subito, no? La malattia è da sempre associata al concetto di colpa, di colpa e dunque di peccato inevitabilmente. Chiaramente è variamente declinato a seconda dell'epoca, no? E quindi perché? Perché ho voluto scrivere questo volume, questo libro. Intanto una motivazione oggettiva, colmare una lacuna editoriale. Non esisteva una storia della letteratura italiana che ripercorresse le modalità della narrazione del contagio. E poi una motivazione soggettiva che mi piace sottolineare perché credo profondamente che la grande letteratura, la letteratura classica, come ci insegna Calvino, sia fatta di testi che hanno sempre qualcosa da dirci, anche a distanza di secoli, no? E quindi questa motivazione soggettiva qual è stata? È stata quella di sopravvivere, di sopravvivere alla pandemia, di sopravvivere a tutto ciò che ne è conseguito. Infatti l'introduzione di questo libro, è una cosa che racconto spesso, l'ho scritta proprio durante il primo lockdown. Poi è stata ovviamente rielaborata, però il nucleo più profondo di questo lavoro nasce in quei mesi, in quei mesi difficilissimi e lo scrivo anche nel preambolo. Tutto il resto è venuto dopo, ovviamente. È venuto dopo e appunto ha prodotto questo volume che si concentra poi prevalentemente sulla letteratura italiana. E dunque l'introduzione, come dicevo, l'introduzione ricostruisce le modalità della narrazione della malattia contagiosa proprio a partire dall'antiquità, a partire dalle origini della storia della letteratura greca e quindi dall'Iliade, perché come sappiamo la letteratura nasce in Occidente con la descrizione di un'epidemia, probabilmente di peste, che è quella che nell'Iliade provoca la contesa fra Achille e Agamemnon e con tutto ciò che poi ne consegue per l'esercito acheo. Ma nell'introduzione ho preso in considerazione anche altri testi della letteratura greca, come l'edipore di Sofocle, dove la peste rappresenta sempre il momento di rottura, l'elemento scatenante che apre una crisi eccezionale per il protagonista, di eccezionale gravità per il protagonista. E poi ovviamente parlando di letteratura greca e di malattia non si può non pensare alla descrizione della terribile epidemia di peste di Atene che colpì la città di Atene durante la guerra del Peloponneso nel 430 avanti Cristo, quella durante la quale morì lo stesso Pericle, il grande statista ateniese, che ci viene raccontata nella guerra del Peloponneso dal grande storico greco Tucidide, nel secondo libro in particolare, i capitoli 47-54. Da Tucidide poi da questo lucido resoconto discende l'altrettanto lucido resoconto della peste atenese presentata da Lucrezio nel sesto libro del Dererum Natura, dove Lucrezio, questo straordinario poeta latino, ci presenta un quadro apocalittico dipinto a tinte fosche della stessa epidemia di peste raccontata poi da Tucidide. Ecco, proprio a partire da questi testi ho notato una cosa, che nella narrazione del contagio, nella narrazione della diffusione della malattia contagiosa ricorre il medesimo schema, che poi si mantiene praticamente inalterato fino alle soglie dell'età moderna. Perché? Perché si parte generalmente dalla discussione relativa alle origini della malattia, quindi si tenta di comprendere la causa, l'eziologia della malattia e della sua diffusione. Si descrivono poi i sintomi e il decorso della malattia, anche questa è una costante, e poi si pone l'accento su un elemento assolutamente moderno, anche vicino alla nostra sensibilità, cioè sull'incapacità e dei medici e del potere politico di contenere il contagio. Ripeto, qualcosa che abbiamo vissuto sulla nostra pelle pochissimi anni fa. Poi si passa generalmente alla descrizione dei luoghi colpiti e quindi alla loro desolazione sostanzialmente e si conclude in genere, e questo è uno schema che torna ad esempio anche nel Decamerone di Boccaccio, ma non solo, si passa a descrivere la disgregazione del tessuto sociale e il degrado a cui va incontro la società civile. Ripeto, un elemento che sarà molto presente e molto importante poi in Boccaccio. Ma, ripeto, l'introduzione voleva essere qualcosa di molto ambizioso, perché appunto io sono partita dalla letteratura greca, ma poi sono arrivata alla letteratura novecentesca, quindi Marquez, Saramago, Camus, gli esempi sono molteplici. E ripeto, questo schema ricorre, ricorre attraverso i secoli, diventa topico, potremmo dire. E dunque, se volessimo presentare più da vicino la materia dei capitoli che poi costituiscono il fulcro del libro, quelli appunto concentrati sulla storia della letteratura italiana, il primo capitolo è dedicato alle origini della nostra letteratura sostanzialmente. Perché? Perché prende le mosse dalla peste nera, dalla terribile peste nera del 1348. Sconvolgimento epocale nella storia d'Europa viene descritta dai numerevoli cronisti. Io ho preso in considerazione molte cronache, tra cui quella di Matteo Villani, che prende le mosse proprio dalla peste del 1348, quella in occasione della quale aveva perso la vita il fratello di Matteo Villani, altro cronista, che appunto aveva fatto terminare la propria cronaca proprio in coincidenza con quell'anno. E dunque, tante cronache, quella di Matteo Villani soltanto la più famosa, ma anche testi squisitamente letterari. Ovviamente il pensiero non può non correre al De Camerone di Boccaccio. De Camerone di Boccaccio è un testo molto particolare. Perché? Perché la peste non è soltanto l'occasione e lo spunto per la narrazione poi delle cento novelle che costituiscono gran parte dell'opera, ma diventa il presupposto per un vero e proprio viaggio. Ovviamente Boccaccio deve moltissimo al modello della commedia dantesca e quello che si profila nel De Camerone è un vero e proprio viaggio, perché si parte dalla selva infernale rappresentata dalla città di Firenze attraversata dal morbo, caratterizzata dal disfacimento del tessuto sociale, della società civile, e si giunge poi al termine delle cento novelle quando i giovani della brigata decameroniana ritornano a Firenze. Ma attenzione, la peste non è finita. Boccaccio nulla dice a questo proposito. La peste c'è ancora. Quindi in realtà, ecco, ho cercato di rileggere quest'opera in quest'ottica, in questa chiave. Perché i dieci ragazzi della brigata decameroniana si allontanano dalla città di Firenze? Non si allontanano per sottrarsi al rischio della morte. Non è questo che a loro interessa. Il loro tentativo è proprio quello di opporsi, di sottrarsi al degrado sociale, civile, al venir meno di ogni norma di civile convivenza, al venir meno degli affetti familiari, addirittura perché Boccaccio ci descrive una situazione tragica da questo punto di vista. La sua descrizione ovviamente fa la scuola perché tornerà in tantissime altre opere. Pensiamo all'epistola della peste di Machiavelli che è stata recentemente attribuita a Nicola Machiavelli dal filologo Pasquale Stoppeli, ma pensiamo anche a Manzoni ovviamente non solo. E quindi i dieci ragazzi si allontanano da Firenze, si rifugiano in contado, si dedicano al racconto di novelle piacevoli, non solo per trascorrere il tempo evidentemente, ma perché? Perché vogliono porre a quella situazione di degrado, a quella selva infernale di dantesca memoria, il valore altissimo della parola, della parola civile, della civile conversazione, potremmo dire con un'espressione che in realtà anticipa qualcosa che poi verrà dopo con l'umanesimo e il rinascimento. E dunque il mio tentativo è stato quello di dare spazio in questa ricostruzione non soltanto ai grandi della letteratura, infatti prima ho citato dei cronisti che sì sono conosciuti ma magari non tantissimo, se non dagli addetti ai lavori potremmo dire, e per i secoli successivi il discorso si complica in un certo senso. Il tentativo diceva è stato quello di dare spazio non solo ai grandi della letteratura italiana ma anche agli autori minori, per così dire, ad autori meno noti che ai grandi ovviamente guardano, l'ho sottolineato più volte, il modello del Decamerone di Boccaccio fa scuola, è ovvio, guardano come un modello imprescindibile per la narrazione del contagio, però conservano poi una loro precisa fisionomia, pur nel rispetto degli elementi topici, come dicevo prima, della descrizione della diffusione del contagio e del morgo. E dunque il primo capitolo si completa poi con una sezione dedicata a Petrarca, perché? Perché anche per Petrarca la peste del 1348 rappresenta un momento cruciale della sua vita, della sua esistenza, della sua attività poetica, della sua attività letteraria, in realtà. Petrarca, a differenza dei cronisti che ho citato prima, a differenza di Boccaccio, non offre una visione oggettiva della peste, non offre una descrizione, per così dire, improntata ad una dimensione collettiva, ad una dimensione pubblica, perché sì, Boccaccio è molto attento a ricostruire la psicologia dei sentimenti dei suoi concittadini, ma il suo sguardo è quello del narratore esterno, del narratore esterno che appunto descrive lo sfacelo che si para dinanzi ai suoi occhi. Petrarca, che era finissimo conoscitore dell'animo umano, delle sue profondità abissali, fa qualcosa di più. Scava nel profondo appunto e quindi cerca di capire che cosa la peste abbia prodotto nella sua esistenza. Petrarca perse moltissimi amici a causa della peste del 1348, perse Laura, la donna amata, perse il suo protettore, il cardinale Giovanni Colonna e dunque la peste rappresenta per Petrarca una vera e propria frattura nella scansione lineare del tempo, un punto, un punctum temporis dopo il quale tutto cambia in realtà. È qualcosa, un evento ritico evidentemente, che lo spinge a recuperare le opere scritte sino ad allora, a rielaborarle. In particolare nasce così la raccolta delle familiares, delle peste, le familiari di Francesco Petrarca, ma nasce così anche un testo straordinario come l'epistola 1.14 ad 6 ipsum, che è un'epistola in esametri, in cui Petrarca descrive appunto il mondo intero sconvolto dall'epidemia di peste del 1348 che si abbatte implacabile sugli uomini e questa descrizione si lega da un canto alla riflessione del poeta sulla sofferenza dell'uomo, sulla sofferenza che inevitabilmente si accompagna alla vita umana e che dipende nella riflessione di Petrarca dalle catene del desiderio, dalle catene della volontà, pensiamo anche al secreto dove Petrarca ovviamente dà grande spazio a queste tematiche. Dall'altro la riflessione sulla peste si ricollega ad un altro nodo cruciale del pensiero Petrarca, cioè la riflessione sul tempo che fugge inevitabilmente sulla morte che incombe e a cui l'uomo non può ovviamente in alcun modo sottrarsi. Dunque questo per quanto riguarda appunto il primo capitolo, il primo capitolo di questo saggio, di questo volume. Il secondo capitolo prende in considerazione testi ecco meno noti da questo punto di vista, in particolare una ampia porzione, un'ampia schiera di testi in realtà che sono dedicati sostanzialmente a offrire agli uomini appunto che si trovavano a fronteggiare la catastrofe di un'epidemia di peste consigli di natura medica e ovviamente il pensiero non può che correre ad un testo che ha fatto scuola da questo punto di vista è diventato un vero e proprio classico e cioè il consiglio a proposito della peste di Marsilio Ficino che compare verso gli ultimi decenni del 400 quindi ci spostiamo cronologicamente più avanti e ripeto diventa un vero e proprio classico intanto perché Ficino Marsilio Ficino sceglie di scrivere in volgare. I testi dedicati a offrire consigli medici sulla peste sino ad allora erano sempre stati scritti in lingua latina. Marsilio Ficino si rende conto della necessità di offrire consigli di natura medica, consigli pratici, ovviamente spesso abbastanza fantasiosi, anche molto divertenti da leggere talvolta, in lingua volgare. In lingua volgare perché? Perché vuol porsi a servizio dei suoi concittadini, vuole che i suoi concittadini di Firenze riescano a comprendere ciò che gli scrive e quindi appunto decide di scrivere il consiglio in lingua volgare. Dicevo che si tratta di un trattato che fa scuola perché? Perché recupera intanto il retroterra culturale caratteristico di tutti i trattati dedicati alla peste e cioè la teoria miasmatica di matrice ipocratico-galenica che ovviamente rappresenta il quadro di riferimento per tutti questi testi, scientifici, medici, letterari e non. La teoria dei miasmi appunto di derivazione ipocratico-galenica, la teoria umorale di derivazione ipocratico-galenica rappresentano i punti di riferimento imprescindibili, tanto per questi testi appunto genericamente denominati consiglia, tanto per molti altri testi che poi sarebbero stati scritti anche in seguito e penso in particolare ad alcuni testi che compaiono verso la fine del Cinquecento in occasione di una terribile epidemia di peste che colpì gran parte dell'Italia settentrionale e la Sicilia fra il 1575 e il 1577, ma di questo poi ho trattato nel capitolo quarto in realtà del volume. A fine Quattrocento abbiamo innumerevoli testi dedicati appunto al tentativo di offrire consigli di natura medica, non solo il consiglio di Marsilio Ficino, ma anche il testamento preservativo e curativo di Bonino Mombrizio, ma ce ne sono tanti altri ovviamente. Ma abbiamo anche un testo assolutamente singolare su cui mi piace richiamare l'attenzione perché appunto è uno di quei testi molto poco noti di cui parlavo prima. Ed è un poema, lo chiamo così, in dieci canti per un totale di più di 6.000 versi in decasillabi che si presenta come un apocalittico triunfus mortis che deve moltissimo alla tradizione iconografica tardo-medioevale, delle danze macabre e appunto dei trionfi della morte. Chiaramente il pensiero non può che correre ancora una volta al grande modello dei trionfi Petratkeschi. Sto parlando della Letilogia di Bettino d'Attrezzo, un'opera che compare a stampa a Milano nel 1488. Il torno d'anni è più o meno quello del consiglio di Marsilio Ficino, ma appunto si tratta non di un'opera di carattere scientifico, ma di poesia. Poesia non di altissimo livello, ma comunque interessante perché Bettino d'Attrezzo ci presenta questa sorta di prosopopea della morte che nel pieno delle sue funzioni prende la parola e descrive la sua possanza. Bettino d'Attrezzo la definisce così. Chiaramente ricorrono innumerevoli immagini di carattere bellico, perché? Perché anche su questo ho cercato di porre l'accento attraverso i diversi capitoli di cui il volume consta, cioè sul persistere di immagini di natura bellica che rimandano al tema della guerra nella letteratura dedicata al contagio, dedicata alla diffusione della malattia. È una costante, diventa un vero e proprio topos di questo genere di testi, dato Cilide in poi, ma in realtà potremmo dire dall'Eliade in poi. E quindi abbiamo questo triunfus mortis, è la morte in prima persona che parla e che osserva l'infuriare della peste ovviamente da un punto di vista prettamente moralistico. Perché? Perché la morte, dice Bettino d'Attrezzo, è la magistra che ha fatto il maleficio, quindi che ha fatto della peste lo strumento della punizione celeste, della punizione divina che si abbatte implacabile sugli uomini. Perché? Perché gli uomini sono peccatori. L'idea è sempre quella, dalla notte dei tempi ad oggi potremmo dire, purtroppo. Procedo più velocemente. Il capitolo successivo, come dicevo prima, è dedicato... no, questo non l'ho detto, lo dico adesso. Il capitolo successivo è forse il più ampio del volume ed è dedicato al primo cinquecento. Perché? Cosa cambia nel primo cinquecento? Allora, intanto, dal punto di vista politico, la situazione in Italia cambia radicalmente. Perché nel 1494 abbiamo la terribile discesa di Carlo VIII di Francia e Italia, che cambia tutto. Perché? Perché quella politica dell'equilibrio che era stata sancita dalla pace di Lodi, voluta da Lorenzo il Magnifico nel 1454, ovviamente viene meno. Viene e si incrina per la prima volta. Ecco, ma a noi interessa soprattutto il profilo medico-sanitario. Cosa succede? Succede che con la calata di Carlo VIII nel 1494 arriva in Italia una malattia nuova, una malattia sconosciuta, sconosciuta sino ad allora. Terribile per le deturpazioni che provocava, molto visibili già sul volto degli ammalati. Sto parlando della sifilide, che in realtà inizialmente assume il nome di morbo gallico, proprio perché è la malattia portata dai francesi, no? Morbo gallico, la variante colta appunto della malattia dei francesi, del mal francese, e che poi avrebbe avuto il nome di sifilide grazie all'opera di Girolamo Fracastoro, su cui mi sono particolarmente concentrata. Il poemetto mitologico appunto che è Girolamo Fracastoro dedica alla sifilide. Fracastoro è un medico, è un naturalista, è uno scienziato, però è interessantissimo credo che ricorra al mito, quindi alla narrazione di carattere mitologico, ad un poemetto mitologico per spiegare l'eziologia del male. E quindi appunto ci racconta, nel terzo libro in particolare del suo poemetto, la storia di questo pastore di Sifilo, che ancora una volta per una punizione divina, come dicevo si tratta di un topos ricorrente, appunto viene colpito da questa piaga. E per curare la quale poi si suggerisce insomma l'utilizzo del famoso legno santo, legno santo delle Americhe, perché? Perché chiaramente nel frattempo c'è stata anche la scoperta dell'America. In realtà una teoria molto diffusa è proprio la teoria americanista, che vede l'origine del morbo gallico nelle Americhe e in particolare nei rapporti intrattenuti dai marinai di Colombo con le donne native, con le native americane, che in realtà spesso erano veri e propri stupri, per cui si diffonde questa teoria americanista e si ritiene, si incomincia a ritenere, si suggerisce che la cura per questo terribile morbo, che inizialmente provocava non solo menomazioni fisiche molto gravi, ma anche la morte, potesse essere appunto il legno santo. Ecco, Girolamo Fracastoro in maniera squisitamente umanistica, squisitamente letteraria, ci racconta questa storia appunto del pastore Sifilo per spiegare l'eziologia della malattia. In realtà Fracastoro non credeva veramente nella teoria americanista e scrive altri testi di carattere propriamente medico, su cui pure mi sono soffermata, per spiegare il contagio. Fracastoro è il primo ad introdurre proprio la nozione di contagio vivo, no? Che poi ovviamente avrà grandi sviluppi in seguito. Ecco, nel frattempo la peste ovviamente non è scomparsa, questo è chiaro, anzi ce ne sono diverse altre fiammate epidemiche, le ho definite così nel libro, in particolare ad esempio nei primi anni del Cinquecento ne abbiamo una molto grave a Firenze in occasione della quale Niccolò Machiavelli scrive la sua epistola della peste che ricordavo prima, che molto deve ovviamente al modello del Decamerone di Boccaccio. Però ecco comincia a diffondersi anche questa nuova malattia, la lue venerea, il morbo gallico appunto, e si diffonde talmente tanto da divenire oggetto di derisione di scherno. Perché? Perché c'è tutta una letteratura di stampo comico burlesco da Francesco Berni in poi che prende di mira appunto l'Infranciosati, sino al primo Seicento, perché nel primo Seicento abbiamo un'operazione di marca faceta con Giovanni Battista Lalli, poeta Norcino, che recupera il poemetto mitologico di Fracastoro di cui ho parlato poco fa, ma lo recupera in chiave comica. Chiaramente recuperando anche tutta la tradizione comico burlesca di cui ho appena parlato, a cui ho appena fatto cenno, e scrive la Franceide. La Franceide è questo poema eroicomico che mette appunto in scena la spedizione, tra le altre cose, la spedizione di tredici paladini guidati da Consalvo da Cordova che devono recarsi nelle Americhe, perché dalle Americhe appunto è giunto il morbo gallico e nelle Americhe si deve recuperare il legno santo per permettere agli Infranciosati di curarsi. Quindi insomma una tradizione di lungo periodo che arriva appunto al primo Seicento con Giovanni Battista Lalli. Quarto capitolo, come dicevo prima, è dedicato a quella terribile epidemia di peste che si abbatté sull'Italia settentrionale e sulla Sicilia tra il 1575 e il 77. Abbiamo tutta una serie di testi come il successo della peste di Alessandro Canobbio, che era un lorista, ma interessantissimo è anche il dialogo della peste di Paolo Bellintani, che era un predicatore cappuccino, il quale ricevette dal cardinale milanese Borromeo l'incarico di occuparsi del governo temporale e spirituale del lazzaretto cittadino, del lazzaretto milanese di San Gregorio. E appunto il Bellintani racconta tutte le misure messe in atto per cercare di governare questo lazzaretto che era stato posto sotto la sua autorità. Altro testo interessantissimo, l'informazione del pestifero contagioso morbo di Filippo Ingrassia, medico siciliano, appunto che si diede molto da fare in occasione dell'epidemia di peste ricordata prima. Arriviamo al 600 molto rapidamente, il 600, il secolo di ferro, numerose sono le epidemie di peste di questo secolo, ovviamente il pensiero non può che correre alla peste manzoniana, raccontataci da Manzoni in particolare nei capitoli 31 e 32 dei Promessi Sposi, dove Manzoni mette a frutto tutta una serie di fonti che vanno da Ripamonti a Tadino a innumerevoli cronache e documenti dell'epoca. Ma Manzoni fa qualcosa di più, ovviamente Manzoni è un narratore estremamente preciso, si documenta moltissimo, ma poi ci restituisce un affresco della città di Milano colpita dalla peste indimenticabile. I capitoli 31 e 32 dei Promessi Sposi sono probabilmente la narrazione più toccante della peste che possediamo, insomma, quantomeno se guardiamo alla letteratura più recente. La peste ad un certo punto comincia a retrocedere, diciamo così. Ovviamente non scompare del tutto, ma dopo qualche altra fiammata epidemica che interessa i primi decenni del Settecento e ancora all'inizio dell'Ottocento sostanzialmente viene meno. Emergono altre malattie, quindi possiamo ripetere lo stesso discorso fatto prima a proposito del morbo gallico, emergono altre malattie che ovviamente si ricavano un proprio spazio nella produzione letteraria dell'epoca e chiaramente non possiamo non citare il colera, il colera che nasce come malattia endemica del basso gange e che poi ovviamente si diffonde in tutto il mondo è la malattia della colonizzazione. Arriva ovviamente anche in Italia, arriva in particolare a Napoli e abbiamo una straordinaria testimonianza del colera napoletano degli anni 30, del 36-37 perché possediamo alcune pistole di Giacomo Leopardi che ci racconta la situazione della città di Napoli e delle campagne circostanti appunto durante il colera di quegli anni. Leopardi muore a Napoli, non muore a causa del colera, però ci lascia questa testimonianza straordinaria, ma ovviamente parlando di colera non possiamo non parlare del colera siciliano e di narratori straordinari che ne hanno parlato, da Verga a De Robertis. Il libro si chiude con qualche accenno anche alla tubercolosi che ha un ampio spazio nella letteratura italiana dell'Ottocento e ne avrà anche all'inizio del Novecento, ma come dicevo all'inizio del Novecento tutto cambia perché la malattia fisica diventa specchio della malattia dell'animo e quindi si approfondisce e muta radicalmente quel concetto di quella, quell'idea di quell'interpretazione moraleggiante della malattia che poi caratterizza tutti i secoli della nostra letteratura dalle origini fino all'Ottocento. Io spero di aver dato un quadro sintetico, ma spero insomma chiaro, comprensibile, abbastanza completo di ciò che si può trovare in questo libro, credo di aver finito insomma. Grazie. Il quadro è molto chiaro e il viaggio è molto interessante davvero per tante ragioni che non sono soltanto quelle letterarie ma proprio il tessuto sociale e come il tessuto sociale risponde e reagisce alle malattie e allora a questo punto bisogna andare in libreria e comprare il libro, quindi io ricordo il titolo che è Storia letteraria delle malattie, la narrazione del contagio dal Medioevo all'età moderna di Elisa Tinelli, pubblicato dall'edizione Idedalo da pochissimo e io ringrazio tantissimo Elisa per avercene parlato e per aver presentato questo davvero interessante volume. Grazie ancora. Grazie, grazie a lei, grazie ancora dell'invito. E a tutti voi ricordo di continuare a seguirci sul nostro canale YouTube dove insieme a questa trovate tutte le videopresentazioni realizzate finora. Grazie ancora e arrivederci.